ma sto giro su come lo fanno stupido vabbè ma dammi un'idea non spunto un aiuto e fallo sul pd no? come ai vecchi tempi come ai vecchi tempi ti pare facile oh ehi 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 scusa se le mie figlie volessero fare le veline rispetterei le loro scelte ma proverei a convincerle a non cercare solo una strada per diventare famose ma chi ha detto? franceschini? no si e a chi ha detto? a chi? a chi l'ha detto? a chi? l'ha detto? a chi? a chi? a chi? al giornale dei berlusconi? ah a chi l'ha detto? eh figo o me? scusa fammi il video su questo a sinistra snob scende a valle sul giornale dei cui lui e così tutti i barucchiere conoscono il pensiero dei franceschini e i barucchiere sanno manco chi è franceschini parlamose chiaro ma per quale motivo la figlia dei franceschini deve diventare famosa vorrei sapere io vabbè qualcuno in famiglia statisticamente prima o poi famoso ci diventa eh sta aspettando il padre no guarda lasciamo sta un video sul pittin che va a farciò che va a farlo si che dei spunti col pd ce ne so c'è sta darema che è in pista contro lo sconfittismo dalla sinistra contro se stesso capito? c'è sta Rutelli che ha detto che il nucleare era niente male oh Rutelli non era verde una volta questa affassino che sapia chi immigrata guarda i dei spunti sul pd ce ne sta no e questi sarebbero spunti mi sta a far venire angoscia perchè ti avevo parlato del pd ci manca poche le elezioni parlamo di quell'altro no? ti sta un po' a censurare io non te lo vorrei dire ma ti sta un po' a censurare io non me sto a censurare per mali minore alla fine comunque è minore quindi è meno importante quindi andiamo con i mali peggiori dai dai allora cominciamo con l'oxe famo un bel pezzo sull'oxe la denuncia frontale sull'oxe l'oxe l'oxe il mostro dell'oxe che dice che i nella classifica dei salari medi neti siamo al ventitresimo posto sui 30 totali l'oxe ventitresimi su 30 guarda che ne mica male sa? il conto è se tu parti per fare la Champions League ma noi siamo sempre partiti per nuore trocete se arrivi al ventitresimo su 30 è una servezza tranquilla eh vabbè allora c'è sta Freedom House Freedom House è una cosa che dice che l'Italia scende nuovamente nella classifica mondiale della libertà di stampa e siamo come tonga voglio dire cazzo è grave c'ha presente l'informazione di tonga te? no manco io voi tutti li vedi questi a tonga tutti allegri i giornali ma scusa ma quanti sono a tonga? e quelli nella copia del giornale se la fanno bastare per tutti no? e poi che vuol dire Freedom House? Freedom House vuol dire ca... vuol dire casa della libertà ah ha capito si ha capito questi quanto so paraculi? se lo dicono da soli che non c'è sta la libertà di informazione per potesse fa di ammazza queanta libertà di informazione c'è sta che quelli della casa della libertà se dicono da soli che non c'è sta la libertà di informazione bruttaccio mica ci avevo pensato vabbè ci sarà qualcosa su cui si può fare una denuncia no? c'è sta... ah c'è a conferenza episcopale c'è sta di che siamo razzisti perchè stiamo arrivando ai barconi in Libia ancora con sta storia che siamo razzisti a gente gliene frega niente a gente se pensi che i barconi affonerebban mai note ma però tu dici ma come stai sempre a rompercazzo con la chiesa, con la famiglia i valori cristiani c'è stanno quelli della chiesa i preti che ti dicono che guarda che tu sti valori cristiani ti stai proprio a sbattere il faccia tu te va fidati i preti? no e gli hai ragione oggi che i negri e quelli ti fregano domani con aborto o i matrimoni che gli hai fatto la procreazione assistita ma se l'altro giorno sono andato pure a san giovanni alla festa dei popoli tutte razze ancora a san giovanni che i sindacati che i comunisti che il PD che c'è che vara basta ma quando cresce? ma di che? ma magari erano missionari scalabriniani non mi chiede che vuol dire ma si chiamavano così a sinistra queste cose ne fa più c'è ma paura pure di intirli i mani oramai ma lo dice pure l'ONU che siamo razzisti chi lo dice? l'ONU cioè se c'è stana cosa che ho pieno per culo tutti è l'ONU ho pieno per culo pure la russa o pure Casparri che è l'unico che ho pieno per culo più dell'ONU vabbè volemmo far pezzo sulla crisi erpil perché? te dico solo erpil a ridillo? 5.9% in meno negli ultimi trent'anni mai così in basso voglio dire, la gente lo capisce no? erpil adesso si sa, tira più un pil che... vabbè questa era proprio brutta ma che gli frega la gente? se meno gli parli della crisi è meglio stare manca il pil non la puoi vedere? poi questa è varietà, spettacolo, show, capito? e tu arrivi, boom, c'è la crisi e dai, no? quindi manco Napolitano che dice che non bisogna c'è la xenofobia men comunista che devi dire? e poi che si dice xenofobia? ha xenofobia devi stare pure a spiegarti che ha xenofobia per forza poi quello ti dice mica ce l'ha con noi noi siamo razzisti, mica xenofobi ma che davvero davvero eh? e Fini che difende gli immigrati gay che dice nooo le leggi guidate dalla religione manco Fini va bene e poi io gli avrete ha tutta questa visibilità a Fini che pare che l'opposizione la fa solo lui eh? poi la gente lo va a foda e si accorge che è lo stesso partito del principale esponente dove lo schieramento va a Fini allora fammono su Schifani fammono su Schifani che ha detto Schifani? e niente, ha detto un cazzo Schifani però Napolitano no, Fini no Noemi? e Noemi tira tira Noemi hanno detto tutto tira più un pill de Noemi allora torniamo su Noemi tanti italiani solo quello capiscono poi comunque è sempre attualità perché c'è sta sto fatto che mo lei partecipa a Anafiction dove fa figlia del deputato pedofilo che vuole partecipare al grande fratello che è a Onna mentre le spinge i barconi dei clandestini che non erano stati invitati alla festa dove l'Inter avevano zero titoli per stare in Italia ammazza che trama una ragazza semplice una storia semplice certo che coglioni avevo sempre a parlare di Noemi Eveline è possibile che con tutto quello che succede non si riesce a fare un attacco frontale a scardinare il sistema di sto paese? no eh l'avvocato britannico David Mills ha reso falsa testimonianza davanti ai giudici italiani per proteggere Silvio Berlusconi per i togati che lo hanno condannato a quattro anni e mezzo per corruzione giudiziaria non vi ha alcun dubbio a corrompere l'ormai ex marito di un ministro dell'esecutivo Blair fu l'attuale numero uno del governo italiano come no? è un Mills è un Mills ma non lo senti che è il nome? è corrotto da Berlusconi è straniero ma la gente secondo te fra l'italiano e non straniero ma per chi ti fa? l'italiano e te lo arriva puoi parlare dei Mills? meglio Noemi eh? è meglio Noemi si hai visto Franceschini comandato già sul pezzo? impara dal segretario è famoso Noemi sto video va? famo che comincia con te che spieghi a tua figlia che favelina va bene però insomma per diventare famosi c'è sta pure un'altra strada dai fammi vedere dai bella di papà tuo se proprio vuoi favelina papà ti dice che no però per diventare famosi ci sono altre strade non ci sta solo la tv capito? ma perché tu invece che fai papà? ma perché tu invece che fai papà?